Faragosti bicicletta? Meraviglioso, fatica tanta però il gusto ne vale la pena, il tempo meraviglioso. Cortina e la montagna non solo d'inverno? Non solo d'inverno esattamente, anche d'estate direi, più che altro d'estate, qua è bellissimo, sono strutturati per corsi a piedi, biciclette, meraviglioso. Un po' ci si riposa, si può andare in piscina, dipende, dipende quello che ha voglia di fare qualcuno. Dipende da quanti chilometri abbiamo fatto e che salita. Immagino che sarete affamati anche. Molto, adesso andiamo a pranzo infatti, ce n'è per tutti i gusti qui, si può fare qualsiasi cosa. Faragosto in moto e adesso un panino al volo? Sì esattamente, siamo venuti a fare un giro così alla buona, visto anche un po' di ristrettezze, infatti non si va in ristorante, si mangia paninetto.